Buon appetito! Uno sguardo al traffico ferroviario informiamo che le biglietterie di Campiglia e Orbetello oggi e domani sono chiuse al pubblico. Per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che sono iniziate le prime prove di transito del tram sulla linea 3 da Careggi a Piazza Dalmazia. Chiusure temporanee degli incroci limitate al tempo necessario per il passaggio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!